Salve a tutti, non so voi ma io amo particolarmente le frittate. Chi mi segue da un po' avrà avuto modo di vedere che le presento in diversi modi. Uno dei miei preferiti sono i rotoli. Oggi ho pensato di preparare infatti insieme a voi un roto di frittata con degli ingredienti particolarmente gustosi. Ci occorreranno all'incirca 400 g di radicchio, una cipolla non troppo grande, 5 uova, 60 g di speck in una sola fetta, 2 o 3 cucchiai di parmigiano grattugiato, 60 g di provola, olio d'oliva e se gradite un po' di pepe. Io comincio subito. La prima cosa da fare sarà quella di mettere a dorare il nostro speck che io ho tagliato a fettine sottili all'interno di un tegame. Lo dovremo lasciare cuocere finché non diventa croccante. Una volta che lo speck sarà diventato croccante lo potete togliere e mettere da parte. A questo punto nel fondo di cottura dello speck potete cominciare ad aggiungere la cipolla. aspettate che affassisca. E ora che la vostra cipolla è ben affassita volete cominciare ad aggiungere il radicchio tagliato a listarelle. Il nostro radicchio è pronto. Ora dovremo avere solo un po' di pazienza e attendere che si raffreddi. Nel mentre cominciate a prendere una teglia e a rivestirla con un foglio di carta da forno. Mi raccomando una teglia non troppo grande. Il mio radicchio si è raffreddato e l'ho trasferito come vi avevo detto su una teglia. L'ho distribuito uniformemente. La mia teglia è all'incirca 20x30. Queste sono le dimensioni. Non superate 25x35. altrimenti il rotolo diventa troppo sottile. Ora ho acceso il forno. Il forno deve avere una temperatura di 200 gradi. Quindi da questo momento posso cominciare a battere le uova. Ho già messo un pizzico di pepe. Aggiungerò i miei due cucchiai di parmigiano grattugiato e batterò le uova. ed eccole le mie uova ben battute. Sono pronti per essere versate nella teglia. Il forno è a temperatura e quindi appena le avrò versate potrò infornare. Mi raccomando cercate di distribuire il composto in maniera uniforme in maniera tale che il rotolo abbia la stessa consistenza in tutti i punti. Ed eccolo dopo pochi minuti il nostro rotolo diciamo è già pronto perché le uova si gonfiano immediatamente in forno. Ora dobbiamo avere soltanto un po' di pazienza. Attendere che si raffreddi leggermente il rotolo per poterlo poi lavorare e aggiungere gli altri ingredienti. Ed ecco è arrivato il momento di distribuire il resto degli ingredienti sul nostro rotolo. Comincerò dalla provola che io ho tagliato a julienne. Preferisco perché in questa maniera il rotolo è più facile poi da lavorare e sicuramente ne occorre meno rispetto a se la mettessimo diciamo con delle fette. Ecco cerchiamo di distribuire in maniera uniforme in modo tale che la provola sia un po' dappertutto e successivamente aggiungerò il mio speck. Distribuiamo anche lo speck in maniera uniforme. lo speck se volete farlo a striscioline ancora più piccine va benissimo lo stesso. Ecco qui. Ora con l'aiuto della carta da turno comincerò a fare il mio rotolo ed è molto molto semplice. Ecco qui. Ecco questo. Il rotolo è fatto. Ora non devo togliere assolutamente il rotolo dalla carta da forno. Mi raccomando non spengete il forno e serrando bene il rotolo a caramella lo rinfornerò per pochissimi minuti in maniera tale che la provola comincia a sciogliersi. Dopodiché il rotolo è terminato. Ecco il mio rotolo serrato a caramella lo rinforno per 5 minuti ed ecco ho appena sfornato il mio rotolo. Lo attirò un po' leggermente in maniera tale che si possa raffreddare. Non ci vorrà moltissimo lo lasciamo diciamo tiepido. Poi potremo procedere a tagliarlo e a servirlo. Vi farò vedere in che maniera. Un piatto veramente semplice alla portata di tutti di gran bella figura. Il rotolo alla temperatura giusta per poter essere tagliato. Comincio a tagliarlo con un coltello abbastanza affilato. Regolatevi per fette di circa due dita ciascuna. Quando avrò terminato lo trasferirò sul mio piatto di portata a tra pochissimo. Ed eccolo il nostro rotolo è pronto per essere portato in tavola. Un piatto veramente semplice che tutti potete realizzare. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e spero di rivedervi presto qui in Cucina con il Cuore. Un vaso! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!